Ancora una volta ciao a questo breve video per due indicazioni. Uno, visto il successo relativo che ha avuto la lettura integrale dei Promessi Sposi, vorrei riproporvela capitolo per capitolo, ma preceduta da un'introduzione critica in ogni capitolo, cioè introduzione critica e poi lettura del capitolo, questo capitolo per capitolo. Ovviamente chi vorrà potrà ascoltare solo la introduzione critica, chi vorrà potrà ascoltare solo la lettura del capitolo. Ci sarà il segnale del tempo, il minuto in cui uno può cominciare direttamente la lettura del capitolo se vuole saltare quello che viene prima. Mi sembrava opportuno dare questa possibilità soprattutto agli studenti, cercando anche di scegliere tra le critiche quelle più attendibili, quelle che secondo me danno una chiave di lettura ai singoli capitoli. I saggi critici ovviamente non sono miei e sono presi da una edizione dei Promessi Sposi che è dell'editoriale del Drago, la quale è un'edizione abbastanza elegante che utilizza anche le illustrazioni di Giorgio De Chirico. Intanto sto per postare il primo capitolo. Poi in base alle vostre opinioni, anche in base all'accoglienza che ha questo tipo di riproposta, deciderò se andare avanti o no. Io spero di sì. Non mi è difficile completare l'intero romanzo. Certo, per farlo c'è bisogno del vostro appoggio, del vostro consenso. L'altra giustificazione a questo breve intervento che faccio è quella di riproporvi, di riprendere in considerazione l'altro mio canale che si chiama Fiabesca Mente. Ed è un canale che è nato per raccogliere letture dedicate ai più piccoli bambini, e quindi fiabe, filastrocche, favole, racconti, raccontini, miti. Ma anche magari qualche lettura più impegnativa o più grossa. Mettiamo il piccolo principe, Pinocchio, qualche libro fantasy, qualche libro dedicato all'infanzia, oppure qualche romanzo preso in considerazione durante la scuola media. Come potrebbe essere stato, magari in passato, il libro cuore. Come potrebbe essere stato le storie dell'anno 1000 di Malerba. Come potrebbe essere stata, per esempio, la commedia umana di Saroyan. Come potrebbe essere stato, ovviamente, il libro della giungla. In questo canale voi potrete trovare tutto questo, sempre che valga la pena di portarlo avanti. È un canale che adesso ha 1400-1500 iscritti. Se le visualizzazioni di quello che verrà proposto gradualmente saranno incoraggianti per poterlo mandare avanti, per poterlo far crescere, io ci dedicherò del tempo e cercherò di farlo crescere con ulteriori favole, con ulteriori proposte, con ulteriori fiabe. Se invece non sarà incoraggiante l'andamento di questo canale, lo lascerò per dedicarmi invece con più attenzione, con più costanza, al canale da dove vi sto parlando. Però, insomma, sappiate che c'è anche un canale dedicato ai più piccoli, e ai quali le mamme, i papà, i nonni, gli zii potrebbero attingere per dei racconti ai bambini, insomma, ai più piccoli. Se mi incoraggierete su questo, io cercherò di portare avanti le due cose. Per quello che riguarda i promessi sposi, mi rivolgo soprattutto agli studenti, che magari potrebbero trovare una facilitazione. Nell'avere dei commenti critici ai singoli capitoli, con la possibilità poi di arrivare anche ad ascoltare l'intero capitolo, e quindi di farsi un'idea del capitolo, e di come viene visto dalla critica, lo stesso capitolo, insomma, quindi di realizzarne anche il valore. Per gli studenti più grandi, l'altra invece per i bambini più piccoli, ma ovviamente i bambini più piccoli hanno bisogno dell'intermediazione dei genitori, e quindi è giusto che i genitori sappiano dell'esistenza di questa possibilità. Possibilità che verrà ampliata, ripeto, se voi sarete incoraggianti, insomma, se andrete a vedere quello che succede nel canale, e se vi iscriverete a questo canale stesso. Una buona domenica. Ciao!